Buongiorno, questa mattina ci troviamo in un luogo un po' diverso rispetto al solito. Siamo al Parco Giochi di San Mango d'Aquino, dove sta avendo luogo la seconda edizione del Grest, organizzato dalle suore con la collaborazione mia e di altre ragazze del paese. Questo Grest in che cosa consiste? Ogni mattina, per 5 mattine, ci incontriamo proprio qua, in questo parchetto, dove insieme ai bambini giochiamo, facciamo diverse attività, recitiamo, cantiamo, balliamo, quindi tutto è l'insegna del divertimento. Diciamo che il Grest ogni anno è incentrato su una storia, l'anno scorso sulla storia del mago di Oz, dove io ho interpretato Dorothy. Quest'anno invece sulla storia di Esther, una storia che è tratta dalla Bibbia, ma questa storia l'abbiamo integrata con una storia recente, quindi abbiamo fatto un po' un mix. E anche questa volta io sono una delle protagoniste, Stella! E che dire, i ragazzi si stanno divertendo molto, sono sempre più numerosi. Speriamo di portare a termine con successo questo nostro programma, così da invogliare anche l'anno prossimo sempre più bambini a raggiungerci e a divertirsi con noi. Io come i bambini mi diverto! la ragazza che sia solo bella, non riesce a saprire cosa sia la vera bellezza, da sola non lo ho. A trovar il di chiamare del sogno che ha nessuno di me. A casa della vita ancora Sono dicendo che mi vieno a guardare Della nuova che ha scelto da me A sei giorni del mio viaggio E sono ancora a testa Invece ho trovato te Ogni parte della mia vita Diventa sempre più luminosa Ma se sento il mio ritorno a te Ormai ora lo fa Da sola non va Assieme verso te Allora riuscirò A trovare il barchè Nel tuo sogno che è il suo di me Anche se non ti va ancora Sono dicendo che mi vieno a guardare Tu sei il dio della mia vita Mai mi lascerai da sola Se il mio sogno maniscerà La bellissima forza per me Quando tu mi vieno a guardare Della nuova che ha scelto per me Per te!